Lo stress casalingo, il carico familiare, figli, casa, marito, genitori e problematiche varie portano la donna a subire il maggior numero di incidenti lavorativi, soprattutto in itinere, ovvero nel tragitto casa e lavoro. Lo dicono i dati INAIL e ANMI, l'associazione mutilati e invaliti del lavoro. Dati resi noti in occasione dell'8 marzo per ribadire l'importanza del lavoro femminile e dei rischi che la donna corre sul lavoro. Le donne si fanno male lavorando molto meno degli uomini, soprattutto perché lavorano in settori produttivi con meno rischio. Poi pare anche che indagini abbiano provato che le donne stanno più attenti, comunque hanno una percezione del rischio più alta e quindi si difendono dalla possibilità, dal rischio di farsi male. Il carico lavorativo insomma non è assolutamente condiviso in egual misura tra uomini e donne. La donna a causa del carico familiare molto spesso si trova anche in condizioni di rischio che si ripercuotono poi sul lavoro. L'alta percentuale di infortuni in itinere, cioè quegli infortuni che accadono nel tragitto casa-lavoro, in genere in macchina, comunque in macchina, in motorino, in bicicletta, perché il 50% degli infortuni in itinere che accadono accadono a donne. È calata certo la mortalità negli infortuni sul lavoro che riguardano le donne, ma la disabilità rimane costante. E una donna che a causa di un incidente sul lavoro rimane disabile viene quasi subito espulsa dal mercato. Le donne la vivono molto male, non solo come esperienza deturpante sul proprio fisico, ma anche sul lato sociale, familiare e non solo economico.